Nessun passo indietro del presidente Fedriga sulla sospensione di Schengen, non abbiamo alternative se gli altri paesi non rispettano le regole, scontro a distanza con la deputata Serracchiani che ha paragonato a Jack lo squartatore. La rimozione dello striscione non è un affronto solo per Giulio ma anche per tante altre persone morte in circostanze simili, così mamma Paola a Telefriuli e in consiglio regionale anche il PD mette i cartelli per Regeni. Nascondevano cocaina, scisce, ecstasy nelle mutande nel reggiseno, arrestati a Concordia due fidanzati friulani fermati in auto. La droga era stata occultata anche nel manico di una spazzola. Il presidente Bardelli sogna di espandere il Cittafiera con un'area dedicata al tempo libero e un palazzetto da 9.000 persone. Insorge Udine, Fontanini, no grazie, abbiamo già un nostro progetto preoccupata con Fcommercio. In disuso da 30 anni una motrice storica della società Ferrovie Udine Civilale è stata trasportata da Udina a Resiuta. Diventerà un vagone museo con un ristorante e aula multimediale per i turisti dell'Alpe Adria. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In primo piano la vicenda migranti e la posizione del presidente della regione Fedriga che non intende fare passi indietro rispetto alla sospensione di Schengen per rendere più efficaci i controlli al confine. Non è quello a cui ambiamo, ha detto oggi il governatore, ma non abbiamo alternative se gli altri paesi non fanno rispettare le regole. Sulla vicenda immigrazione si consuma anche lo scontro con la ex presidente Serracchiani che Fedriga ha paragonato a Jack lo squartatore. Serracchiani non ci sta e replica duramente. Sospendere Schengen non è la nostra ambizione, ma se non c'è l'impegno degli altri paesi coinvolti a rispettare le regole, non abbiamo alternativa. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga torna sulla questione dei controlli ai confini per contrastare gli arrivi legati alla rotta balcanica e sulla vicenda si registra anche lo scontro a distanza con la deputata del PD Deborah Serracchiani che ha mal digerito di essere stata paragonata dal governatore a Jack lo squartatore. Sospendere Schengen, ha spiegato Fedriga, vuol dire controllare i valichi e avere a disposizione le forze dell'ordine per controllare anche tutte quelle vie che valichi non sono, penso ai passaggi attraverso i boschi. Ovviamente, ha precisato, sono una serie di controlli congiunti. Io ho sempre detto, quando non vengono rispettate le regole, purtroppo si alzano i muri e io voglio che i muri non si alzino e quindi chiedo che le regole tutti le rispettino. Il presidente ha poi aggiunto di aver informato il governo sul flusso di migranti della rotta balcanica. Dalle informazioni in nostro possesso, ha detto, rischia di diventare molto consistente. Quanto al paragone con il celebre assassino, Fedriga nei giorni scorsi ha scritto Serracchiani che insegna come gestire l'immigrazione è come Jack lo squartatore che insegna a salvare vite umane. Replica l'ex presidente, Fedriga impari a controllare la lingua e badi bene a quello che dice Io non accetto di essere aggredita per le mie opinioni e tantomeno di essere paragonata ad un assassino. Se il presidente della regione, continua Serracchiani, pensa di essere esente da critiche perché ha vinto le elezioni, si sbaglia di grosso. In questo paese e in questa regione esiste un'opposizione che ha diritto di parola e di essere rispettata. Sia il confronto anche duro, conclude la parlamentare Dem, ma gli attacchi personali se li rimangia. Il presidente Fedriga tra l'altro oggi ha ricordato che c'è stato un calo di circa il 20% delle presenze di migranti sul territorio regionale ed è polemica anche su questo fronte con la posizione di Caterina Conti della direzione nazionale del PD. Bizzarro questo Fedriga, afferma che rivendica la diminuzione delle presenze dei migranti e al contempo minaccia la chiusura dei confini. Il presidente leghista continua Conti a impalese difficoltà e reagisce come sa, cioè fa la faccia feroce. E altre polemiche riguardano la rimozione dello striscione che chiede verità per Giulio Reggeni dal palazzo della regione a Trieste. Diverse le prese di posizione in questi giorni. Abbiamo sentito Paola, la mamma di Giulio Reggeni. Ha infiammato l'opinione pubblica negli scorsi giorni ed è previsto lo farà anche nei prossimi. Si tratta del caso dello striscione verità per Giulio Reggeni, rimosso dal palazzo della regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia a Trieste qualche giorno fa. Decisione che ha scatenato reazioni diverse, ma soprattutto l'attivazione quasi immediata di un consistente numero di cittadini che si sono rivolte all'amministrazione regionale e all'ufficio delle relazioni pubbliche della stessa regione per chiedere chiarimenti. Tra le voci anche quella di Paola Defendi, mamma di Giulio, che ha ribadito come la scritta rappresenta sì Giulio, ma anche la lunga schiera di persone che hanno perso la vita allo stesso modo. Uno striscione che dunque deve anche essere un monito a ricordare la vicenda ancora risolta del giovane ricercatore frulano, oltre ad un importante segno per la memoria. E dopo il Movimento 5 Stelle anche il Partito Democratico ha fisso i cartelli con la scritta verità per Giulio Reggeni alle finestre degli uffici del gruppo consigliare regionale, nelle sedi istituzionali di Trieste e in quelle di rappresentanza di Udine e Pordenone. La posizione della regione del Consiglio regionale su Reggeni, afferma il capogruppo del PD Sergio Bolzonello, non può e non deve cambiare, non deve sfuggire a nessuno, come nelle controversie internazionali sia importantissima la presa di posizione dei governi e delle istituzioni locali come elemento di pressione perché non venga ostacolata la ricerca della verità. E sulla vicenda oggi ad Agorà su Rai 3 è intervenuto anche il presidente della regione Liguria e coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti. Lo striscione per Giulio Reggeni io l'avrei lasciato, non vedo per quale ragione rimuovere una cosa che è nelle coscienze di tutti per cui abbiamo bisogno di sapere la verità, ha detto. Si comincerà a dipanare mercoledì il mistero sulle cause della morte dei tre residenti nella palazzina di Viale 20 Settembre a Gorizia che è crollata dopo un'esplosione. È stata fissata per mercoledì l'autopsia sui corpi delle tre vittime che nell'esplosione di giovedì mattina a Gorizia hanno perso la vita. Si potrà così dipanare il mistero sulle cause del decesso e per gli inquirenti sarà anche il momento per cercare di capire qualcosa in più rispetto alle dinamiche che hanno portato alle 3.55 del 20 giugno alla terribile esplosione. La Procura della Repubblica di Gorizia ha affidato gli incarichi alle persone e ai professionisti interessati a cui il Comando Provinciale dei Carabinieri ha notificato i provvedimenti. Da ricordare come i primi cadaveri a comparire siano stati quelli di Micha Ursi e Sabina Trapani ritrovati a letto con i traumi tipici dello schiacciamento e cianotici a confermare come avessero respirato del gas prima di morire. Sarà appunto l'autopsia a definire se il decesso sia stato causato dallo schiacciamento o dall'intossicazione. Sul corpo di Fabrizio Facchettini invece erano state ritrovate anche bruciature come se fosse stato investito da una fiamma e proprio questo particolare fa presagire che la fuga di gas sia partita dal suo appartamento al piano terra. Le indagini si incentreranno proprio sulla figura di Facchettini mentre le attenzioni si rivolgono anche alle tubature del gas. La cronaca nascondevano cocaina, hashish ed ecstasy nelle mutande nel Reggiseno arrestati domenica a Concordia Sagittaria due fidanzati friulani. I due viaggiavano su un'auto che i carabinieri hanno fermato per un controllo. Durante la perquisizione hanno rinvenuto 44 grammi di cocaina, 8 pastiglie di ecstasy, un grammo e mezzo di hashish, un bilancino elettronico ed una cospicua somma di denaro contante ritenuto provento di spaccio. Parte della cocaina era nascosta tra gli indumenti intimi indossati dalla donna. Un'altra parte era stata inserita nei manici di una spazzola per capelli e di un leva pelucchi. L'ecstasy era nelle mutande dell'uomo. I militari hanno perquisito anche due appartamenti nelle disponibilità della coppia, trovando altri 52 grammi di cocaina, 6 pastiglie di ecstasy, materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio su disposizione dell'autorità giudiziaria di Pordenone. Ed ora altre notizie di cronaca in pillole. Incidente sul lavoro alla Seabblade di Maniago. Un operaio cittadino romeno di 38 anni, residente in paese, è stato colpito da un cuneo metallico di 120 chili. Ferito a una gamba e è stato trasportato in ospedale a Pordenone. Non è in pericolo di vita. Perde l'equilibrio, cade dalle scale, batte la testa e muore sul colpo. L'infortunio domestico è accaduto in una casa di buia, vittima a una donna di 79 anni, ottenuto il nulla osta da parte del PM di turno. La salma è stata composta nel cimitero di Buia. Un 30 settembre di Codroipo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza a Pordenone. Gli agenti della polizia locale di Pordenone e Cordenone se lo hanno notato mentre manipolava un navigatore satellitare rallentando il traffico. Sottoposto a un pre-alcol test, è risultato positivo. Ha iniziato a lamentarsi, dicendo di soffrire di attacchi d'ansia e di essere allergico. Portato in caserma, è risultato guidare in stato di ebrezza con quattro volte i valori previsti dalla legge. Provano a farsi tamponare distraendo l'autista esibendo le parti intime ai conducenti delle auto che affiancano. La nuova truffa architettata per ricavare denaro per danni e lesioni si è verificata in provincia di Pordenone. A raccontarla al gazzettino di Pordenone che ha raccolto la testimonianza della moglie di una delle vittime sfuggita per un soffio raggiro. Una signorina senza slip all'improvviso ha cominciato a mostrare le sue parti intime esibendo i glutei al finestrino. Appena finita la fase di sorpasso, la vettura è rientrata nella carregiata di destra inchiodando improvvisamente alla ricerca di una collisione che fortunatamente è stata evitata per un soffio. Ed ora una notizia del pomeriggio. Milano e Cortina hanno vinto. Sarà l'Italia a ospitare i giochi olimpici invernali del 2026. Battuta la candidatura di Stoccolma, a questo punto la festa può iniziare così come i preparativi. Milano-Cortina sarà la quarta edizione dei giochi olimpici ospitate in Italia dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. E proprio a Torino 2006 era stata una delle protagoniste la nostra Manuela Di Centa, sette medaglie olimpiche, due ori, due argenti e tre bronzi che da dirigente, membro del C, era stata nominata sindaco del villaggio olimpico. E abbiamo in collegamento telefonico Manuela Di Centa. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutto il Friuli Venezia Giulia con questo tricolore bellissimo perché dalla capitale olimpica, dall'Osanna, dalla Svizzera, beh, un regalo meraviglioso, un regalo a tutta la nostra Italia che, devo dire, mi ha commosso, mi ha emozionato perché siamo stati una grande squadra. Abbiamo visto l'emozionante abbraccio tra lei e suo fratello Giorgio. Sì, questi sono momenti che rimangono nel cuore. È una delle medaglie più belle della mia vita perché è condivisa veramente con la mia famiglia. Quello rimane nella storia. Ma adesso questa nuova avventura, questa vittoria di Milano-Cortina deve fare in modo che tante altre persone, tanti ragazzi e tante ragazze possano vivere queste emozioni, possono sperare di andare lì e conquistare, dare il massimo perché l'Olimpiade è questa, immersi nell'universalità di quelli che sono i valori che porta l'Olimpiade. Quindi la bellezza di stare insieme in un paese. E diciamolo, l'Italia, che ha scelto veramente di utilizzare questa flessibilità della riforma con l'agenda 20-20 del Comitato Internazionale Olimpico nel migliore dei modi, mettendo insieme tutte le migliori energie che avevamo sul campo. Milano è Cortina, Lombardia è Veneto. E quindi tutti noi adesso conteneremo questa staffetta, questa forza anche di un paese che si è messo insieme proprio tutti quanti. Oggi avevamo il Presidente Conte, avevamo il Sottosegretario Giorgetti e chiaramente tutto lo sport italiano internazionale ma anche tutto lo sport italiano nella sua più ampia parola perché c'erano i bellissimi, i fortissimi atleti che non sono solo quelli che vincono ma sono anche rappresentanti di un'Italia che è forte e che comunque difende sempre con i denti quella che è la sua identità, la sua radice, la sua voglia di essere se stessa. I atleti, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia ci sono già degli sportivi papabili per l'Olimpia del 2026? Ma io spero che questo momento di grande vittoria su una nazione meravigliosa come la Svezia perché ricordiamo che negli sport invernali la Svezia non deve insegnare nulla a nessuno. Quindi è una grandissima nazione e io ho vinto tantissimo anche in Svezia delle medaglie meravigliose ai campionati del mondo quindi la Svezia è un grande paese e vincere su un paese così è ancora, lo diciamo, è ancora più bello perché loro sono forti sì, lo diciamo, adesso dobbiamo pensare che questa bellezza, questa vittoria sia promotrice, sia un vulcano di voglia per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono prepararsi per quella Olimpiade. Perché ci sono... Chi può contarci in Friuli Venezia Giulia? Ma io credo che il Friuli Venezia Giulia ma tutta l'Italia adesso con questa energia nuova sia veramente capace di mettere in moto quello che nei nostri cuori, nelle nostre menti nasce quando c'è un grande evento quando c'è un grande evento in casa sulle nostre montagne, proprio a casa nostra dentro la nostra porta credo che tanti giovani e tante giovani possono essere ispirate da questo traguardo che è un traguardo appunto tutto in casa perché l'Olimpiade... Ultimissima cosa di Centa ricordavamo dell'emozionante abbraccio a Torino nel 2006 che cosa vuol dire gareggiare nel proprio paese? Ma per un atleta è una cosa fortissima un atleta che poi è una persona quindi c'è il cuore, c'è la mente, c'è la storia ci sono le famiglie in un atleta c'è tutto quello che c'è dentro nella persona, nella cultura nei nostri amici, nei nostri insegnanti nei nostri tecnici quindi l'atleta porta dentro tutto e quando questo tu lo condividi a casa tua con questa grande famiglia allargata che sono tutte le persone che ti vogliono bene che ti conoscono che hanno creduto in te magari quando eri piccino e nessuno credeva in te come tante volte è successo anche a tante ragazze ecco queste cose sono le cose che fanno rivoluzionare poi il mondo per cui io li considero il grande motore per me personalmente aver premiato a Torino da dirigente, da membro del Comitato Internazionale Olimpico aver premiato con la medaglia d'oro mio fratello Giorgio è stato un privilegio enorme perché questo è qualcosa veramente di meraviglioso perché due in famiglia e poi premiare così è veramente molto bello ma questa è l'Olimpiade perché l'Olimpiade veramente credere, credere, credere poi i sogni si avverano grazie davvero a Manuela Di Centa per questo commento a caldo e in diretta e naturalmente buon lavoro insomma ce n'è ancora di strada da fare anche per i nostri atleti torniamo in regione, torniamo in Friuli per parlare del sogno di Antonio Maria Bardelli di espandere ulteriormente il Cittafiera si parla anche di un centro polifunzionale lo ha sentito per noi Daniele Paroni vediamo nella zona del quartiere feristico sono già in corso i lavori di realizzazione di un ponte che lo collegherà al Cittafiera qualcosa che si sta realizzando dopo 15 anni di ragionamenti ma il patron del Cittafiera Antonio Maria Bardelli pensa in grande e sul tavolo mette l'idea di un centro per il tempo libero compresa un'area polifunzionale per concerti eventi sportivi e attività convegnistiche il cuore pulsante di questa idea potrebbe concretizzarsi dove attualmente c'è l'unutilizzato padiglione dove si sarebbero dovute battere le aste investimento che potrebbe oscillare tra i 10 e i 20 milioni di euro con il supporto di regione, comuni e lo stesso ente Fiera insomma Bardelli vuole condividere nessuna fuga in avanti da cosa nasce questa idea di creare una gigantesca arena nella vicinanza del quartiere feristico? è nata dal fatto che tempo fa si è parlato di creare una struttura del genere però zona industriale Udine Sud e la mia opinione molto personale era che in quest'area potrebbe trovare una posizione molto più interessante sia per i servizi da dare ai fruttori per gli operatori anche per chi fa l'investimento dovrebbero essere organizzati concerti anche magari eventi sportivi e il Carnera? non voglio entrare in questa polemica perché questa idea nasce dal fatto che si voleva fare un'altra realtà è il timore che questa diventi una cattedrale nel deserto? il timore c'è sempre diciamo che è più facile che rimanga una cattedrale nel deserto se si fa in una zona completamente fuori dal contesto insomma e qui ci sono già realtà come la fiera, come lo stadio come città fiera stesso che danno tutta una serie di servizi che possono essere integrati in modo intelligente una struttura proporzionata a Udine e Udine ha bisogno di una struttura del genere? sul piano sportivo credo di sì perché pur non essendo un esperto di queste cose mi pare che per andare per progredire c'è bisogno di un palazzetto che abbia almeno 5.000 posti a sedere quindi da questo punto di vista sì, credo che possa essere un'esigenza da punto di vista degli spettacoli vi rispondo dicendo domandate a chi organizza gli spettacoli insomma io mi sono confrontato e questa gente dice che un posto che abbia 8-9.000 posti a sedere può permettere di portare qui sul territorio degli spettacoli con personaggi più importanti e creare anche un indotto interessante Diverse, decisamente diverse le reazioni all'idea di Bardelli a Udine e a Martignaco Un palazzetto nella zona del quartiere fieristico? No, grazie il sindaco di Udine Pietro Fontanini è categorico ma anzi contattato da noi al telefono ribadisce come la maggior parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale non condividono la proposta di Bardelli ma anzi rincara la dose i fondi che sono in carico all'ente fieristico a ferma Fontanini servono per lavori di ristrutturazione dei nuovi padiglioni inoltre c'è un privato l'imprenditore Fattori che ha già presentato un progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport nella zona di Udine Sud sulla stessa lunghezza d'onda anche Giuseppe Pavan presidente mandamentale di ConfCommercio il centro storico udinese deve distinguersi dai centri commerciali dice Pavan dobbiamo offrire più servizi più parcheggi dobbiamo essere più attenti ma di certo dobbiamo staccarci da tutto quello che è centro commerciale mettendo a disposizione le nostre professionalità di tutto d'alto avviso il sindaco di Martignaco Gianluca Casali che conferma come all'orizzonte c'è il recupero e il potenziamento del quartiere fieristico l'idea secondo il primo cittadino di Martignanco è buona perché così si migliora l'offerta per gli espositori in modo da stimolare più eventi da ospitare nei padiglioni della fiera al momento sono troppo pochi con bilanci economici che vanno e devono essere migliorati il quartiere si trova in una zona baricentrica e strategica quindi giusto investirci anche perché ci sono delle società sportive che necessitano di spazi utili potrà essere utilizzato il protocollo tra regione Friuli Venezia Giulia parti sociali e federazione regionale delle banche di credito cooperativo per anticipare la cassa integrazione ai 69 lavoratori del mercatone 1 di Sacile Monfalcone Reana del Royale l'ha annunciato l'assessore regionale al lavoro del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen che nei giorni scorsi ha preso contatti con il presidente della federazione regionale delle BCC Luca Occhialini e sono 150 le persone che l'associazione ONLUS Udina aiuta a cui l'associazione tende la mano questo perché si trovano in stato di povertà un fenomeno che diventa preoccupante in città La povertà è presente a Udine ed è trasversale basta analizzare i dati dell'attività di Udina aiuta che in questo momento supporta una quarantina di nuclei familiari con 150 persone la ONLUS in questione ha sede nel capologo friulano in via Lungheria 44 ma anche in via Zili 53 dove attiva un centro per le famiglie ogni quarto mercoledì del mese c'è lo smistamento di genere alimentari e di abbigliamento mentre il giorno successivo si procede alla somministrazione dei beni 5 kg pro capite di materiale che vengono consegnati tutto questo grazie alla generosità di privati aziende la collaborazione del banco alimentare in base al progetto AGEA arriviamo dove il pubblico non arriva o arriva più lentamente spiega il presidente Marco Santuari ovviamente effettuiamo delle verifiche sulle persone che si presentano a noi si tratta per un 50% di italiani rimanenti sono stranieri con una leggera prevalenza di donne segnaliamo che un terzo delle persone assistite sono minorenni una decina sono ultra sessantenni è ovvio che Udine Aiuta tiene conto della soglia di povertà come del resto dei valori ISEE che si attestano a quota 6.000 euro ma anche con le ultime indicazioni l'asticella è stata portata a 9.000 euro le persone che accedono a questo tipo di aiuto sono famiglie dove il capo famiglia ha perso il lavoro o dove siamo in una situazione di monoreddito con più figli ed ora ci occupiamo del viaggio da Udine a Resiutta di una motrice storica della FUC regalata dalla FUC al comune di Resiutta una storica motrice è stata trasportata oggi dal deposito di Udine di Ferrovie Udine Cividale fino al piccolo paese dell'Alto Friuli dove diventerà un singolare museo un'automotrice del 58 ha un codice AD800 una delle più belle macchine realizzate in quel periodo e abbiamo accettato la proposta che ci ha fatto il comune di Resiutta di donare questa automotrice e inserirla in un contesto su cui loro ci stanno lavorando da un po' cioè quello di organizzare un hub intermodale a Resiutta ristrutturando una vecchia stazione un bel progetto su cui appunto noi abbiamo dato la nostra adesione e lo supportiamo con questo dono è una ferrovia storica che ha 130 anni di vita e naturalmente come tutte queste ferrovie c'è un patrimonio di materiali che per una parte è funzionante e che quando vi è l'occasione lo mettiamo a disposizione degli utenti e degli appassionati stiamo recuperando la vecchia stazione ferroviaria che diventerà servizio della ciclovia Alpeatria una ciclovia conosciuta a livello europeo con tantissimi passaggi e noi cercheremo di dare dei servizi e creare anche occupazione all'interno della vecchia stazione dove andremo a sistemarla creeremo un piccolo bar o ristorante un'ara camper attrezzata un legio bici e questa sarà la ciliegina sulla torta veramente la andremo a sistemare creeremo una parte museale e una parte dedicata a ristorazione vera speriamo e punteremo a essere operativi per la prossima primavera parte ufficialmente il progetto della Romea Strata il servizio a piedi o in bicicletta dal Baltico all'Adriatico e poi verso il Tirreno per raggiungere Roma sarà presto possibile ripercorrere gli antichi tracciati che pellegrini e viandanti aprirono a nord-est d'Europa incrociando le antiche strade romane nasce così la Romea Strata e l'associazione ad essa dedicata che dal nord Europa vede in Friuli Venezia Giulia la porta naturale d'accesso verso la città eterna la Romea Strata è un cammino che parte dal Mar Baltico e va fino a Roma è un cammino già strutturato molto bene in Italia e anche in Austria e in Repubblica Ceca in Polonia si sta un po' solidificando adesso e consolidando adesso e quindi una realtà molto importante perché oggi i pellegrini sono persone che si mettono in movimento sempre più spesso e soprattutto il Friuli Venezia Giulia potremmo definirlo la porta d'ingresso dell'Europa per la Romea Strata in Italia verso Roma dato che storicamente e anche geograficamente un crocevia significativo di tutte le vie che provenivano dal nord-est Europa è una ricaduta innanzitutto perché le persone si mettono in cammino e quindi cominciano una ricerca interiore e certamente è anche ricerca di spiritualità ma la spiritualità è fatta anche di storia di cultura di arte di civiltà è fatta anche del riconoscimento di tanti luoghi che sicuramente avranno un grande vantaggio dal passaggio di pellegrini e quindi dalla presenza della Romea Strata Udinese GSA lavori in corso se ne parlerà questa sera bianconero con mister Fulvio Battistut e Roberto Zanitti big in uscita e possibili sostituti in casa Udinese che ieri ha riabbracciato al Friuli Oliver Biroff due new entry invece in casa GSA che da sabato ha fatto partire la nuova campagna abbonamente all'insegna dell'alta fedeltà gli obiettivi e le aspettative del presidente Alessandro Pedone del DG Davide Mikalic degli atleti Riccardo Cortese Vittorio Nobile e Giacomo Zilli tutto questo stasera a bianconero a partire dalle 21 noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata arrivederci a partire di serata che si